E' difficile da 9 o 6, adesso forse è difficile. E' difficile da 9 o 6, adesso forse è difficile. E' difficile da 9 o 6, adesso forse è difficile. E' difficile da 9 o 6, adesso forse è difficile. E' difficile da 9 o 6, adesso forse è difficile. E' difficile da 9 o 6, adesso forse è difficile. E' difficile da 9 o 6, adesso forse è difficile. E' difficile da 9 o 6, adesso forse è difficile. E' difficile da 9 o 6, adesso forse è difficile. E' difficile da 9 o 6, adesso forse è difficile. E' difficile da 9 o 6, adesso forse è difficile. E' difficile da 9 o 6, adesso forse è difficile. E' difficile da 9 o 6, adesso forse è difficile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.